Lo scorso anno i morti sul lavoro sono stati tanti, troppi, non sono numeri, sono persone. Papa Francesco incontra la rappresentanza del Lancia e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili in occasione del 75esimo anniversario dell'istituzione con la quale si sofferma sul tema della sicurezza sul lavoro per sottolineare che se si affronta come un costo si parte da un presupposto sbagliato, perché sono le persone la vera ricchezza. Senza di esse non c'è comunità di lavoro, non c'è l'impresa, non c'è l'economia. La sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane che hanno valore inestimabile agli occhi di Dio e anche agli occhi del vero imprenditore. Il governo di Paripasso ammonisce il pontefice parlando alla delegazione guidata dal presidente del Lancia, Gabriele Buia, con trasparenza e concorrenza. Le altre due parole chiave del discorso di Bergoglio, che invoca maggiore tutela per l'ambiente e il lavoro sostenibile.